Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, eccoci al terzo appuntamento con la storia di Kozue Ayuhara. Daigo Inokuma, che nell'adattamento italiano della serie tv è chiamato Diego Nacchi, è l'allenatore soprannominato Demonio, che avrà il compito di allenare le 12 giocatrici di pallavolo selezionate in tutto il Giappone per i mondiali juniores che si terranno negli Stati Uniti. Kozue e Midori fanno parte di questa selezione e si recano in ritiro. Inokuma sottopone le giocatrici ad allenamenti molto duri e intensi, alcune ragazze sono sul punto di ritirarsi. Il potenziale di Kozue viene immediatamente notato da Inokuma, che vuole fare della ragazza il capitano della squadra, ma un'altra giocatrice, Michiru Sanjo, chiamata Sonia nell'adattamento italiano, gelosa del successo di Kozue, mira a soffiare alla stessa Kozue il ruolo di capitano, allenandosi duramente anche dopo gli orari canonici. Kozue intanto si rende conto di non avere sufficiente potenza nelle braccia e decide inoltre, giusto per aggiungere una nuova difficoltà, di allenarsi con le famose catene ai polsi. E qui davvero dobbiamo aprire una piccola parentesi. Questa idea balzana delle catene è veramente assurda, oltre ad essere pericolosissima perché Kozue rischia davvero di fratturarsi i polsi. E l'allenatore invece di impedirglielo le dice pure Ma sì, che bella idea, brava Kozue, vai avanti! È evidente che queste scene vennero aggiunte per condire la storia di quel sacrificio spinto alla massima potenza, immolando però il realismo sull'altare di quel dramma sempre presente negli shoujo dell'epoca. E dobbiamo accettare la cosa così com'è, sapendo che si tratta di una finzione e di un calcare continuo la mano anche sul dolore fisico che la protagonista deve provare per raggiungere i suoi obiettivi. Nel successivo anime di Mile Shiro dedicato alla pallavolo infatti, pur volendo riprendere quell'idea, le catene vengono sostituite molto più logicamente da un polsino appesantito che realmente può essere utilizzato negli allenamenti. Vi ricordate questa parte? Ma torniamo alla storia di Kozue. Nel frattempo veniamo a sapere della storia personale di Michiru che si intreccia con quella di Daigo in Okuma. I due infatti sono sorella e fratello che erano rimasti orfani anni prima. I due hanno una notevole differenza di età, oltre dieci anni. Michiru all'epoca aveva solo un anno, mentre Daigo era già alle medie. Michiru trovò perciò una famiglia adottiva, mentre Daigo semplicemente crebbe in un istituto. A complicare le cose c'è il fatto che Michiru, sempre più convinta che l'allenatore abbia una speciale simpatia per Kozue, un giorno dopo aver seguito Daigo in una caffetteria, ascolta di nascosto proprio Daigo raccontare ad un amico la sua storia familiare. Michiru così si convince che la sorella segreta di Daigo sia Kozue, ed è per questo che l'allenatore ha per lei attenzioni speciali. Nel frattempo viene organizzata una partita amichevole con una squadra liceale, e Michiru lancia a Kozue una sfida personale a chi farà più punti. Ma Kozue durante la partita si rende conto che quella sfida personale sta danneggiando le prestazioni dell'intera squadra e mette così da parte quella stupida competizione individuale portando la squadra alla vittoria. Daigo, che era a conoscenza di tutto, decide che sarà Kozue il capitano, proprio perché ha saputo mettere da parte l'orgoglio e l'ambizione personale per il bene della squadra. Pian piano comunque Michiru comprenderà che giocare a pallavolo significa soprattutto fare squadra, e i conflitti con Kozue si andranno affievolendo, e alla fine le due ragazze, come in ogni manga sportivo che si rispetti, diverranno amiche. Nel manga non vedremo Michiru scoprire la verità su suo fratello, e la vicenda si chiuderà semplicemente con l'allenatore Inokuma, che pensa tra sé che un giorno potrà riabbracciare la sua sorellina. Nell'anime invece la questione verrà a galla, anche a causa di un giornalista particolarmente ficcanaso. Sempre nella serie animata infatti, la vicenda è un po' diversa. I due fratelli si sono infatti separati, che erano già più grandicelli. Daigo Inokuma, dopo la morte del padre e dello zio, aveva deciso di dedicarsi alla pallavolo per poter un giorno mantenere sua sorella, la quale, anche se all'epoca era una bambina, nel presente ha dei ricordi molto nitidi di suo fratello, e non riesce a riconoscerlo solo per via della folta barba e degli occhiali da sole e del suo cipiglio arcigno. Ma un infortunio al braccio costrinse Daigo ad accettare un lavoro da allenatore in Unione Sovietica, mentre sua sorella venne adottata. Michiru, perciò nella serie animata, ritroverà il fratello, e si tranquillizzerà anche per questo. Insomma, superate tutte queste divergenze e difficoltà, le ragazze partono per gli Stati Uniti, e mentre nel manga Inokuma si farà trucco e parrucco, e lo vedremo anche senza barba e senza occhiali, nell'anime continuerà a mantenere il suo look tradizionale. Inoltre, nel manga, le partite dei mondiali juniores si giocano tutte molto velocemente, fino alla vittoria del Giappone sull'Unione Sovietica. Nella serie animata c'è invece un focus importante su questi mondiali. Conosceremo le squadre del Kenya, degli Stati Uniti, della Romania, della Corea, e vi saranno episodi anche ambientati nei quartieri poveri di New York, dove Kozue avrà l'idea del doppio passaggio per superare la schiacciata letale di una delle sovietiche. E qui troviamo una delle grandi differenze tra manga e anime, perché nel manga il Giappone vincerà i mondiali juniores, mentre nell'anime la squadra di Kozue verrà sconfitta classificandosi seconda. Nell'anime ho trovato molto più pathos e anche grande commozione. Le giocatrici hanno avuto infatti modo di confrontarsi con grandi squadre, imparando a battersi al massimo delle loro forze e anche apprendendo il valore di una sconfitta. Vediamo le copiose lacrime di Daigo Inokuma, il quale al termine dei mondiali annuncerà che non farà ritorno in Giappone, perché ha accettato la proposta di allenare una squadra di un piccolo paese appena affacciatosi allo sport della pallavolo. E termina qui questa terza fase della storia. Kozue, adocchiata da molte società, deciderà però di proseguire gli studi iscrivendosi al liceo Fujimi e nuovi conflitti sono già dietro l'angolo.